26. Primo vagito. Dov'è il primo vagito della coscienza? Commento. È nel mondo minerale dove l'atomo del sentire comincia ad evolvere attraverso le pietre, i metalli e tutto ciò che è chiamato materia inorganica. 27. Una creatura che inizia ad avere una certa evoluzione nel mondo minerale sono i cristalli, che hanno una maggiore vita organizzatrice. 28. Anche la lava è una creatura evoluta del regno minerale perché vive una cristallizzazione molto veloce. 29. Infine vengono i cristalloidi, che sono a cavallo del regno minerale e del regno vegetale. 30. Il regno vegetale.